Dopo 12 giornate Zeman non ha ancora individuato il centrocampo titolare. Troppe rotazioni, solo in quattro partite il Boemo ha schierato gli stessi uomini. Tuniov, Squizzato, De Marco nelle sfide con Gubbio, Spall, Lucchese e Torres. Tre vittorie e un K.O. A Carrara, domenica scorsa, il tecnico Biancazzurro si è affidato al trio De Marco-Aloy-Tuniov con Squizzato, inizialmente in panchina. Di certo non è facile trovare la quadra. Pur non essendo un play di ruolo, Squizzato ha fatto registrare progressi. Può crescere ancora, ha indubbie qualità tecniche ed è uno dei pochi, forse l'unico della folta batteria di centrocampisti, capace di verticalizzare. Ha invece altre caratteristiche a Loy, sicuramente più utile da Mezzala. Lo ha dimostrato a Perugia, seconda giornata, dove oltre a segnare l'ex Avellino ha disputato una buonissima partita. Ripetiamo un concetto basilare. Storicamente il play di Zeman è un mediano essenziale, schematico, che in uscita deve verticalizzare, senza fare più di due tocchi. Per il boemo, insomma, il basso non deve portare palla. Dunque a centrocampo le maggiori criticità. In attacco, come è noto, manca un finalizzatore. In realtà il Pescara sta facendo fatica a costruire palle e gol, ciò che invece gli riusciva benissimo sino a qualche settimana fa. Pertanto buona squadra, ma non da primato, anche se il tempo per migliorare non manca. Sono tanti i giovani under in rosa, alcuni di prospettiva e la classifica, malgrado le tre sconfitte di fila, resta senza dubbio positiva. Giovedì alle 18.30 il match di Coppa Italia all'Adriatico contro il Pineto Rivelazione. Corposo turnover, dal primo minuto Ciocci, Floriani, Milani, Pellacani, uno tra Staver e Mesic, che salterà per squalifica il match di campionato con Rimini. A centrocampo Mora Play, Manu e Dagasso Mzzali. Davanti dubbio a Cornero Cangiano, completeranno il reparto Masala e Vergani. Sfida secca, previsti supplementari e eventuali calci di rigore. Chi passa affronterà a fine novembre la vincente della sfida, Giuliano Latina.